è arrivato ragazzi è arrivato il mio pacchetto sono stra emozionata aiuto ciao ragazze ciao ragazzi allora oggi voglio fare questo video per cui sono particolarmente emozionata perché è un po' un sogno che ho sempre avuto cioè far fare lo shopping per me da un personal shopper che deciderà per me cosa indosserò ed è appunto un'emozione perché ho sempre voluto provare e un video in realtà è una tipologia di video che ho visto fare da Roxaurus se non sbaglio il suo nome che è una ragazza una youtuber che seguo ma ho visto che in Italia l'ha fatto anche Chiara è già un po' di tempo fa e se non sbaglio abbiamo utilizzato tutte e tre lo stesso sito quindi oggi andremo su questo sito che si chiama Lucchiero e ragazzi ci tengo a specificare che non è assolutamente sponsorizzato questo sito non è nessuna affiliazione a questa azienda ma c'è questo sito che appunto ti offre la possibilità praticamente ti danno, mettono a tua disposizione un personal shopper tu vai a mettere insomma la tua altezza, il tuo peso, le tue caratteristiche, quello che ti piace, quello che non ti piace i colori eccetera eccetera e la personal shopper, il o la personal shopper sceglie per te un outfit completo e te lo spedisce a casa e io non vedo l'ora ragazzi di vedere che cosa mi arriverà quindi direi vando alle ciance andiamo subito a inserire tutti i nostri dati per che il personal shopper possa poi decidere per noi ok ragazzi siamo su lucchiero.it e qui inizia il nostro questionario che appunto dobbiamo compilare per far capire al personal shopper quali sono i nostri gusti qui ci chiedono come ti vesti nel tempo libero scegli il look per il tempo libero con cui ti identifichi maggiormente e ci sono quattro diverse opzioni una un po' più casual, una un po' più fashion una un po' più sporty e una un po' più bu non le so bene, non so descriverle bene però secondo me tra le quattro decisamente la seconda, quella con il giubbottino di pelle è quella in cui mi rivedo di più mi rivedo di più in questa quindi selezioniamo questa e poi avanti come ti vesti per il lavoro? beh io lavoro a casa quindi se devo dirmi come mi vesto pigiama e pantofole sorvoliamo diciamo che tra questi quello che potrebbe piacermi di più beh ragazzi se devo essere onesta come mi vesto è il primo decisamente è il primo molto easy, molto comfy, molto casereccio avanti con che tipo di taglio ti senti a tuo agio? il sopra ampio, dritto, aderente, dritto o ampio? allora il sopra ma indifferente direi penso che mi siano meglio le maglie un pochino più oversize quindi metterei ampio il sotto aderente, dritto o ampio? il sotto secondo me aderente così mi vedo meglio io almeno e con il tuo stile preferisci? seleziona tutte le opzioni che desideri oppure nessuna decidi tu allora mettere in risalto mettere in risalto la vita decisamente perché è una vita molto stretta e molto piccola quindi decisamente la vita e basta direi basta scollatura no glutei no non lo so braccia che ne so no direi solo la vita coprire allora coprire gambe decisamente io sono molto insicura sulle mie gambe sarà che sono stata bullizzata a riguardo alle medie molto quotidianamente quindi sono sempre stata molto insicura e anche sui glutei perché mi sono sempre vista molto cioè piccolina qui spalle piccole vita piccola invece tipo sedere così un po' la Kim Kardashian solo che io sono sempre stata così e anche quando non andava di moda non era bellissimo devo dire direi coprire gambe e glutei ma anche scollatura perché non mi piace far vedere la scollatura buh no lasciamo libera la scollatura dai perché in caso ci può anche stare se vogliono se vogliamo provare un outfit diverso com'è la tua figura la tua figura aiuterà il tuo personal shopper a decidere che tipo di capi ti stanno meglio e devo dire che questa è una domanda molto molto importante capire qual è la figura del corpo al di là ovviamente dei gusti è molto importante sapere qual è la forma del nostro corpo per sapere quali sono gli abiti e quali sono i tagli di abito che ci stanno meglio la mia è sicuramente una forma a pera di solito ma qui non c'è a triangolo spalle strette e fianchi larghi decisamente decisamente questa avanti di che colore hai gli occhi sapere di che colore hai gli occhi è fondamentale per selezionare le tonalità che valorizzano al meglio i tuoi tratti allora io ho gli occhi azzurri verdi azzurri in realtà tra azzurri verdi direi azzurri insomma di che colore sono i tuoi capelli attualmente attualmente sono biondo chiaro con una bella ricrescita biondi ragazzi biondi grigi platino direi di no biondi avanti che taglia porti di solito scegli la taglia con cui ti senti più a tuo agio allora posso mettere tutto oversize così non sottolineare curve vabbè tipo Billie Eilish un po' sono allora camicie o top infatti me lo dite sempre Nicole smettila di prendere tutti i vestiti di due taglie più grandi avete ragione che quando mi guardo allo specchio sono talmente non lo so forse mi vedo molto più grassa di quanto sono in realtà tipo e quindi mi vedo dico ho bisogno sicuramente di una L poi invece voi mi dite Nicole macinavi di dentro però io mi vedo così non lo so non lo so allora che taglia porti di solito camicie o top camicie o top una ma queste sono taglie italiane presumo di sì e una 42 ma come sono ah ok vanno così leggevo 38 44 50 46 52 era un po tutto un po incasinato no camicie o top una 42 una M oppure una 40 una S però per essere sicura visto che sono appunto molto alte quindi poi le maniche mi arrivano mi sono troppo corte mettiamo una 42 M gomme e pantaloni una 44 quindi L reggiseno io ho una terza coppa non ne ho la più pallida idea ragazze se voi lo sapete qual è la vostra coppa io non sono mai riuscita a capirlo so solo che ho da taglia terza e basta allora le tue misure sono allora 177 cm indica il tuo peso onestamente io non mi peso da parecchio tempo penso anche anni quindi boh non lo so l'ultima volta avevo tipo 63 quindi mettiamo 63 avanti qualche ultima informazione su di te identificare le tue necessità aiuta il tuo personal shopper a creare il lucchiero perfetto per te in quale settore lavori vediamo qui questa è sempre una domanda difficile perché non c'è mai il settore influencer non c'è mai allora commessa sanità educazione amministrativo dirigenziale casalinga industria agricoltura studente informatica ed elettronica altro ragazzi altro quando sei nata come ben sapete il 14 di novembre del 1900 dove sono ok 1984 hai figli no su che cosa desideri che si concentri il tuo lucchiero utilizza le stelle per indicarci su che cosa desideri che si concentri il tuo lucchiero ok ho ripetuto allora lavoro tempo libero sera ma non lo so io direi ma lavoro per niente perché nel senso lavoro io mi vesto in pigiama quindi a meno che non mi vogliano spedire un pigiama direi per niente tempo libero direi molto e sera direi né tanto né poco perché non voglio che mi spediscano necessariamente un outfit da sera voglio qualcosa che sia portabile sempre nella vita di ogni giorno anche perché non vado sempre vestita super elegantissima devo essere sincera quanto desideri siano audaci audaci i tuoi capi bella sta domanda allora poco preferisco ricevere capi dallo stile senza tempo un po' ogni tanto non mi dispiacerebbe ricevere qualche capo alla moda ma aspetta un attimo si sta parlando di capi alla moda o capi audaci perché sono due cose diverse cioè io audace lo interpreto un po' più come magari una cosa che attira di più lo sguardo invece alla moda può essere insomma un po' diversa come cosa secondo me non ho capito bene questa domanda né tanto né poco come decide il mio stylist abbastanza mi piace scoprire nuove marche nuove tendenze molto sono aperta ogni tipo di novità io direi né tanto né poco come decide il mio stylist facciamo facciamo decidere a lui o a lei avanti quale stile ti piacerebbe trovare nella tua selezione dei capi seleziona uno o due stili che ti piacciono di più perché ti fanno sentire a tuo agio o perché ti piacerebbe aggiungerli al tuo guardaroba la prima immagine con uno stile casual quindi jeans maglie camice comode poi abbiamo lo stile classico quindi insomma un bel paio di pantaloni beige una gonna floreale magari anche con qualche giacca con qualche camicia poi abbiamo boohoo chic che mi piace moltissimo addosso a determinate ragazze su di me non me lo vedo per niente bene a parte in qualche occasione più in estate direi è uno stile che appunto mi piace un sacco solo che non mi ci vedo io e minimal no minimal direi che non fa proprio io non sono proprio minimal in nulla devo dire e poi abbiamo street ah ok quindi con una maglia magari con una stampa un po' più così jeans un po' più attillati pure da sera allora io direi ragazzi ah uno o due ne possiamo scegliere allora io direi casual da una parte e poi street così per un abito sono disposta a pagare mettiamo il massimo oltre 100 euro così voglio vedere hanno l'imbarazzo della scelta possono sbizzarrirsi e quindi mi può arrivare veramente la cosa che pensano sia quella giusta per me quindi decisamente oltre 100 quali capi preferiresti evitare facci sapere se non desideri ricevere uno o più dei seguenti capi allora preferirei non ricevere camice non le indosso tantissimo le camice capi spalla da esterno anche questo eviterei eviterei direi questo dai anche full hard eviterei perché non ha senso non li porto tantissimo avanti desideri aggiungere alcune foto no non aggiungo nessuna foto perché altrimenti sapete no vabbè magari non mi conosce nessuno prometti che qualcuno lì mi conosce poi sa che è per me e quindi no non ti aiuto con nessuna foto puoi anche condividere questo lo renderà molto più difficile per il povero per il povero persona shop perché dovrà scegliere perché mi rendo conto che inserire una foto condividere il social network aiuta molto per capire lo stile della persona la forma del corpo i colori della persona eccetera quindi sicuramente è molto utile il fatto che loro lo chiedano però io non aiuterò in questo senso il personal shopper scusami ci sei quasi adesso non mi resta che inserire la mail e la password quindi non vi farò vedere tutti i dettagli anche perché probabilmente dovrò inserire anche i dati di pagamento eccetera eccetera quindi ragazzi noi ci fermiamo qui abbiamo già inserito tutti i nostri dati per la per l'arrivo insomma del nostro shopping personalizzato che sono straemozionata quindi noi ci vediamo tra qualche giorno e vedremo assieme che cosa il personal shopper ha scelto per noi è arrivato ragazzi è arrivato il mio pacchetto da lucchiero con tutto quello che il personal shopper ha scelto per me sono straemozionata era una vita che aspettavo un momento del genere e vi devo dire anche che ci ha messo esattamente dieci giorni come avevano detto loro quindi wow ok basta ragazzi apriamo subito perché sono troppo troppo curiosa oh aiuto ok allora che cosa c'è qui all'interno del pacchetto andiamo a vedere assieme allora ci sono delle idee per dei look ah ok qui c'è la lista delle cose che ci hanno mandato non voglio vedere non voglio sapere e poi qui ci dicono ciao Nicole benvenuta in lucchiero grazie per aver fiducia in noi anche in un momento così delicato come questo io sono Elisa e sono felicissima di essere la tua personal shopper wow la mia prima scelta è ah ok ok allora ragazzi adesso vediamo quando apriamo tutto quanto mi hanno spedito ah questa sarà l'etichetta per il reso e questo è invece il la busta per il reso ci sono due pacchetti devo dire che è molto ben impacchettato il surto mi piace molto cosa hanno scelto per me allora vediamo dalla lista che hanno messo la mia prima scelta è il denim li il denim di li famoso io acquistavo i jeans li quando andavo tipo alle medie famoso per una vestibilità perfetta allora e questo è il denim li di cui la nostra personal shopper parla spero che sia abbastanza ah ok e strecci ok mi sembrava piccolo ed è un bel paio di jeans devo dire non li vedo molto skinny li vedo più dritti quindi no c'è scritto skinny high waist di solito è esattamente quello che piace a me pantaloni skinny a vita alta quindi adesso naturalmente andremo a provare tutto ragazzi non ve lo sto manco a dire è ovvio abbinalo al pool morbido di soia concept cavolo ragazzi fa un po' caldo per il pool morbido in questo momento per quel tocco street che stai cercando completa questo look con le tue trainers preferite sarai comoda e femminile allo stesso tempo ok wow beh è molto carino devo dire un filetto molto molto bello mi piace un sacco un sacco e c'è anche un po' di rosa qua sotto molto carino ho selezionato la t-shirt in laio cell di mine to five si eccola qua un capo versatile facile da indossare che potrai abbinare al denim e giacca per comporre un terzo look sarai bellissima ok questa è la nostra t-shirt è un tessuto molto morbido che mi piace e poi abbiamo un altro pacchetto ragazzi che dovrebbe essere la seconda scelta il vestito di brave soul che ho scelto in questa lunghezza per non scoprire le gambe come mi hai richiesto abbinalo con la giacca di tifosi che sarà questa però a me non sta particolarmente bene questa tonalità di bianco se vedete cioè a me sta bene soltanto il bianco latte proprio bianco bianco puro questa tonalità mi smorza un po' vedete che come colore mi smorza un po' il mio colorito non lo so mi fa sembrare un po' più pallida quindi non impazzisco onestamente per questa tonalità di colore anche se la forma non mi sembra male quindi abbiamo due look completi da provare ragazzi e questo è l'abito che ci consiglia che è appunto sì però io voglio coprire le gambe fino alle caviglie questo abito non copre le gambe fino alle caviglie perché la parte che mi piace meno delle mie gambe sono i polpacci quindi forse dovevano fare distinzione tra coscia e polpaccio perché io per esempio preferisco coprire i polpacci piuttosto che le cosce ma ovviamente nel caso di un abito voglio che sia lungo fino alle caviglie e quest'abito decisamente non è un abito credo almeno lungo fino alle caviglie adesso andiamo a provare quest'abito viene 49 e 95 ragazzi questa camicia che come prezzo è a 39 e 99 quindi anche se devo dire abbiamo dato via libera con i prezzi non sono cose carissime devo dire non si approfittano su questo poi c'è la t-shirt da 39 e 99 il maglioncino invece vediamo è 49 e 99 i jeans invece hanno un prezzo di 89 e 95 beh devo dire insomma questi sono caretti e io di solito su ASO sono tipo 20 ok adesso proviamo il tutto ragazzi e voglio che mi diciate voi come mi stanno queste cose rispetto magari alle cose che indosso io di solito ok ragazzi questa è la t-shirt blu molto morbida e bella anche se di solito preferisco t-shirt o un po' più alte oppure un pochino più basse non mi piacciono tantissimo quelle che finiscono qua ma posso naturalmente andare a portarla anche all'interno dei jeans oppure un po' così diciamo e questi sono i jeans devo dire mi piacciono molto adesso voglio sentire la vostra opinione siate onesti mi raccomando scrivetemi nei commenti come pensate che mi siano queste cose che ci tengo a sapere il vostro parere e questi sono i jeans devo dire che mi piacciono molto unica cosa non so se si riesce a vedere io che sono molto alta preferisco i jeans che mi arrivano alla caviglia almeno questi sono molto corti non non mi piace che stiano a quella lunghezza lì non lo so come spiegare mi piacciono più lunghi i jeans ecco mi danno fastidio se arrivano sopra la caviglia non so perché comunque devo dirvi che questi jeans voglio assolutamente tenerli perché sono meravigliosi per questa maglia onestamente non non credo non credo perché è abbastanza semplice e non mi fa impazzire anche se il colore devo dire che l'hanno scelto bene perché è un colore che mi sta bene e questo è invece il maglioncino ragazzi che devo dire è stupendo è veramente molto molto bello molto morbido comodo e i colori secondo me sono bellissimi c'è veramente la scelta dei colori della non lo so mi sembrano comunque capi di qualità ecco non mi aspettavo no non sapevo cosa aspettarmi in realtà però sono capi di qualità hanno una bella vestibilità e un'ottima fattura e mi piace mi piace molto devo dire questo maglioncino è veramente veramente carino ed è molto stile mio quindi anche questo penso proprio di tenerlo fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate voi mi raccomando ragazzi che siete molto più bravi in queste cose secondo me di quanto lo sia io ragazzi quest'abito mi sta malissimo non mi piace affatto non mi piace che si vedano le gambe da ginocchio in giù proprio perché i miei polpacci me li sono sempre vista brutti e volevo coprirli e quando c'è stata la possibilità di selezionare che si possano coprire le gambe ero felice e invece me li hanno scoperti veramente no non mi piace proprio l'abito in sé perché non è cioè forse da spiaggia ma non lo so non lo so non mi piace proprio e non mi piace il colore che per quanto mi riguarda secondo me non è un colore che mi sta bene avrei preferito dei colori pastello qualcosa di primaverile non lo so non mi piace per niente per niente l'unica cosa che condivido è il fatto che ci sia la cintura in vita e che quindi vada a risaltare la vita stretta però ragazzi non mi piace affatto adesso commentate voi ditemi voi se secondo voi questo vestito può starmi bene ma se voglio coprire le gambe e poi mi scopri tutti i polpacci onestamente non capisco perché chiederlo e non capisco nemmeno la scelta di questo colore che per una ragazza che è bionda con gli occhi azzurri che potenzialmente può essere anche chiara di carnagione è un colore che la sbatte tantissimo quindi onestamente non non approvo affatto la scelta di quest'abito poi c'è questa camicetta che mi hanno spedito ragazzi che onestamente come vi dicevo non me la vedo bene per il colore che ha perché il beige non sta bene a tutte e specialmente a chi è bionda con gli occhi chiari ha un sottotono di pelle freddo tende a sbatterla molto come colore almeno io non mi sono mai vista bene con il beige il crema quei colori lì io preferisco il bianco quello puro un bianco latte io lo chiamo sempre bianco latte l'ho indossato appunto sopra all'abito come consigliavano loro però non è onestamente una camicia che mi piace non non penso allora mi piace il fatto che sia stretta in vita questa è una cosa che sicuramente loro sono stati attenti perché appunto hanno scelto cosine che vanno a sottolineare questa parte quindi la vita stretta però se poi mi metti una camicia che ha le tasche qua e che cade così anche se io vado a stringere onestamente mi va a far sembrare i fianchi ancora più grandi perché vedete come cade quindi si va a sottolineare la vita stretta ma poi fa il contrario di quello che vorrei che facesse un abito va a ingrandirmi e proprio non mi piace proprio questo effetto gonna con sopra una camicia lunga fino a qua cioè se indossi una gonna mi piace avere un coprispalle o una giacca che arriva o qui appena sotto il seno oppure sopra la vita ma decisamente no ha il doppio strato se hai i fianchi un po' più larghi come me secondo me non è decisamente una tipologia di abito che può andare bene mi dispiace proprio affatto comunque fatemi sapere che cosa ne pensate voi naturalmente io può darsi che sbagli e mi veda male con delle cose che mi stanno bene e magari può darsi che mi veda bene con delle cose che mi stanno male quindi fatemi sapere qual è il vostro parere per quanto mi riguarda il look con jeans e maglioncino era decisamente un sì questo look decisamente decisamente ragazzi un no quindi mia family questo è quanto per il video di oggi spero davvero che vi sia piaciuto io mi sono troppo divertita a scoprire queste cose e a provarle anche se appunto una è stata una bella sorpresa l'altra è una delusione almeno per quanto mi riguarda ma devo aspettare di capire che cosa ne pensate voi quindi io vi mando un bacio grandissimo mi raccomando come al solito like al video se vi è piaciuto iscrivetevi al canale attivate la campanella se ancora non l'avete fatto vi mando un bacio grandissimo e vi abbraccio come al solito fortissimo fortissimissimissimissimissimissimo ragazzi che questa è una cosa che vi avevo iniziato a fare in questo periodo che è stato difficile per tutti ma voglio continuare ad abbracciarvi ogni volta che firmo un video perché ho visto che vi piace e poi mi fa non lo so penso di riuscire a trasmettervi meglio quello che provo per voi cioè l'affetto e la gratitudine quindi noi ci vediamo voi vedrete questo video domani che è venerdì quindi noi ci vediamo lunedì con un nuovo video vi auguro un buon weekend mi mancherete bacio grande a lunedì ciao 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 Grazie a tutti.